Ringrazio il sindacato dei giornalisti cinematografici perché è un riconoscimento che mi fa sentire emozionata e anche onorata e diciamo che il mio percorso è un percorso un po' da nomade e quindi il fatto di avere un riconoscimento italiano in effetti è una cosa molto bella e per un film che è durato tanto tempo quindi dal 2013 al 2016 e quindi il fatto che un lavoro fatto fuori sia amato in Italia è bello per me Grazie a tutti Grazie a tutti